L'abbiamo inseguita per anni e finalmente ce l'abbiamo fatta e con noi, dal mondo del tennis mondiale, Anastasia Grimalska a Capulco on the beach. Anastasia, dove sei stata in tutti questi anni? Ti abbiamo inseguito e non siamo mai riusciti ad averti qui, ma non perché tu avessi detto no, ma perché eri sempre in giro per il mondo. Sì, questi anni ho fatto tantissimi tornei e poi nelle settimane in cui mi allenavo e andavo via il lunedì e tornavo il venerdì. Voi fate la trasmissione lunedì e quindi non c'è mai stato modo di fare questa intervista. Noi registriamo abitualmente il lunedì, per te avremmo fatto qualsiasi eccezione, però non ci siamo riusciti. Ci riusciamo adesso, Anastasia Grimalska, per chi non lo sapesse, è una pescarese di adozione vera, perché ormai tu ti senti pescaresi al 99%, pur essendo nata in Ucraina e Kiev. Sì, i miei genitori si sono trasferiti quando avevo un anno e mezzo qui con me e quindi mi sento pescarese e ho sposato anche un pescarese, quindi sì, dai, sono abruzzese. Luca Romano, possiamo inquadrare il pescarese, per favore? Possiamo inquadrare un attimo? Lo so che ti metti in difficoltà il pescarese, lo inquadriamo, eccolo qui Stefano. Stefano, non pensare di essertela scampata perché tra poco ci devi dire alcune cose, no? Poi c'è altro pubblico qui, perché questa è un'intervista molto attesa, c'è Fernando Enrichi, c'è Teresa, insomma, poi ci sono un po' di ragazzini che ti chiederanno autografi dopo, perché effettivamente possiamo dire, Anastasia, che tu sei un personaggio un po' schivo, introverso, ma sei realmente, lo diciamo noi, la tennista più forte che ovviamente l'Abruzzo abbia mai avuto in tutti i tempi. Di questo ti rendi conto, penso, in maniera molto evidente. Sì, giocando da tanti anni nel circuito mondiale. Sì, ma non è detto, perché pure io posso mettermi a giocare da qualche parte, ma non sono così forte. Nessuna tennista, forse solo Alice Matteucci è riuscita ad arrivare a quelle quote di classifica, non ci è riuscita, ma si è avvicinata. Altre no? Sì, effettivamente per ora sono l'unica ad essere stata nella 200esima posizione e ora spero fortemente in mia sorella, che continui la tradizione di famiglia almeno. È una tradizione importante quella della famiglia Grimasca, perché papà, Serghei, ha giocato a tennis ed è un conosciuto maestro, mentre la sorella piccola, Victoria, ci sta provando a emulare le tue geste. Vittoria, che caratteristiche ha? È simile a te in qualche modo oppure è diversa? No, diciamo che è il mio esatto opposto, sia a livello fisico, tecnico che mentale. Io quando avevo la sua età ero molto timida, correvo tanto, tiravo abbastanza piano, invece lei è il mio contrario, appunto tira fortissimo, però molto nervosa, sente molto la partita, quindi abbiamo caratteristiche diverse, vedremo. Ciò vuol dire che tu la partita adesso hai imparato un po' a dominarla dal punto di vista mentale, ci stai riuscendo, non è facile. Sì, ho imparato un po' a gestire le emozioni, ci ho lavorato tanto anche con diverse figure, professionali, quindi riesco a gestire meglio la partita e le sensazioni. Tu hai un fisico, diciamo, normale, poi la vediamo anche in piedi e non vi preoccupate, e devi spesso battagliare contro atlete che anche dal punto di vista fisico, oltre che tecnico, sono debordanti, no? Come si riesce a colmare questo gap? Beh, bisogna sempre allenarsi duramente, ogni tennista, atleta ha varie caratteristiche, io magari ho una buonissima resistenza, ma non sono molto rapida, le altre ragazze invece hanno tanta potenza, ma appunto poca resistenza, quindi bisogna trovare un equilibrio per battere l'avversario e vincere più partite possibili. Allora, la classifica di Anastasia Grimasca ha raggiunto il suo picco nel 2014, quando si è avvicinata alla posizione 210 del mondo, ma poi l'anno scorso ci sei tornata vicinissima, quindi vuol dire che gli anni passano per tutti, anche per te tu hai 29 anni, però fino all'anno scorso hai avuto praticamente la tua quasi miglior stagione, quindi ci sei, ci sei ancora, ci sei ancora ad altissimi livelli mondiali. Sì, sì, ancora sono in gara, ci credo, dopo aver raggiunto il mio miglior ranking, cioè 213 al mondo, dopo ho avuto un infortunio, sono stata ferma 7-8 mesi per epitrocleite al gomito, quindi ho ricominciato con una classifica molto inferiore, ho dovuto allenarmi tanto e lavorare per tornare almeno al ranking precedente. Tu hai faticato molto, perché io quell'infortunio al gomito lo ricordo bene, sembrava non passare mai, era una di quelle cose che poi sconfortano proprio tanto gli atleti, però ti sei tolta una grande soddisfazione proprio l'anno scorso vincendo lo Scudetto, tu sei tesserata per una società piemontese, Beinasco, hai vinto lo Scudetto all'età di 28 anni. Sì, abbiamo vinto lo Scudetto a Luca, una bellissima emozione, è un altro tipo di competizione con la squadra rispetto ai tornei che gioco per 20-30 settimane l'anno, e quindi sì, è stata una bellissima esperienza che abbiamo dovuto giocare ogni domenica per due mesi e poi la finale che abbiamo vinto. C'è una tennista che somiglia a Anastasia Grimas, che in realtà sono le altre che si ispirano a Anastasia, però per farlo capire anche a chi di tennis non si occupa, no, per capire, perché tu sei un'atleta molto quadrata, molto impostata, mentre magari ci sono atleti che hanno altre caratteristiche, che c'è una tennista che ti somiglia di quelle proprio dai top ten? Sì, diciamo un po' di caratteristiche simili alla Alep, che appunto ha vinto Wimbledon, e alla Wozniacki, un po' come resistenza alla Schiavone, che non gioca più, però è stata una grande campionessa, all'Errani, queste giocatrici. Per la cronaca, l'Alep ha vinto di recente Wimbledon e ha battuto la Williams, e quindi vuol dire che a volte l'aspetto fisico, per fortuna, l'aspetto fisico non è determinante, non deve essere determinante nel tennis. Per fortuna, dico, perché altrimenti vincerebbero solo quelli giganteschi, quelli che hanno delle leve lunghe e che quando ti mettono la prima di servizio non riesci più a giocare. Sì, diciamo che tra uomini e donne, noi donne siamo un po' più favorite, nel senso che negli uomini, con un fisico incredibile, hai più facilità a raggiungere varie vittorie. Nelle donne, per adesso, per ora, il fisico conta, però ci sono tanti altri aspetti, come appunto bisogna allenarsi tantissimo, secondo me l'Alep è stata brava, anche a gestire le emozioni rispetto agli altri slam. Enrichi, Fernando, preparati una domanda, perché poi andiamo a fare la passeggiatina e voglio anche la tua domanda, Anastasia, d'accordo? Stefano, marito, poi vengo anche da te, quindi preparati, non fate finta di nulla, perché ve lo sto dicendo in anticipo. Stiamo per farci la passeggiatina. Io ricordo un match di qualche tempo fa, gli internazionali di Roma, bellissimo, contro la campionessa olimpica in carica Monica Puig. Sei andata vicinissima alla vittoria. O perlomeno sei andata vicinissima a impegnarla allo stremo delle forze. Forse è una delle tue partite più belle, secondo me. Sì, dopo aver fatto le prequalificazioni, appunto, ho vinto la wildcard e ho giocato contro Monica Puig, che lì al Foro Italico era, non so se 60 o 70 al mondo. È una partita lottata, ho servito bene. Ci sono stati tanti scambi lottati, però lei, avendo un'esperienza maggiore della mia, anche a livello un po' di ritmo e superiore, avendo fatto più partite con giocatrici più potenti, quindi, alla fine, mi ha battuta. A Kiev non c'è il mare, no? Abbiamo studiato tanto, lo sapevi tu, Fernando? Non lo stavi ascoltando. Va bene, ok, a Kiev non c'è il mare. C'è il chiume. Qui c'è il mare, andiamo. A me viene in mente una domanda da fare ad Anastasia Grimasca. Quando a volte si gioca con gli amici a tennis in situazioni ludiche, così come poi io posso giocare con Paolo Sinibaldi, ad esempio, a volte mi trovo a giocare con dei giocatori fastidiosi, fastidiosi nel senso che sono capaci di essere chiamati pallettari, pallettari perché ti mettono in difficoltà con delle pallette antipatiche. Volevo sapere, da Anastasia, se nel suo ambiente, elevato ovviamente, ci sono dei giocatori di questo tipo? Sì, sicuramente ci sono delle giocatrici che sbagliano poco, e una di quelle sono io, quindi molte mie avversarie e compagne un po', diciamo, tra virgolette, mi odiano perché sbaglio poco e magari ogni tanto faccio dei colpi strani, quindi sì, ci sono. E poi voglio ricordare un'ultima cosa, Paolo, se me lo permetti. Cioè, Anastasia è stata la prima atleta che io ho intervistato quando io ho iniziato a fare il giornalista, lei aveva 12 anni, probabilmente, sicuramente non si ricorderà di questo, io non posso dimenticarlo. Te lo ricordi? Ciao, Fernando, sei stato bravissimo, sei stato bravissimo, baciatevi, salutatevi. Ok. Perché l'intervista sta quasi per finire, in realtà sei stata molto loquace. Prima ho detto schiva, introversa, non è vero. Ho detto una cavolata, è vero? Sì, è vero, è vero, infatti non rispecchia la mia personalità. Allora, è vero che non sai guidare la macchina, o perlomeno che hai la patente, ma che non sei un grande pilota perché tanto sei sempre in giro con aerei, treni, pullman. Sì, ho preso la patente quando avevo 18 anni, poi vivendo fuori casa per 4-5 anni non ho mai guidato nessuna macchina. Poi l'ho comprata e sinceramente non sapevo più guidare e ora devo fare ancora un po' di pratica. Kiev, dicevamo prima, quando torni in Ucraina, tu hai ancora i nonni se non sbaglio, no? Che sensazioni hai? Cioè, Kiev, che cos'è per te oggi? E che cos'è Pescara? Kiev, comunque sì, i miei nonni, la patria dei miei genitori, quando gioca all'Ucraina un po' anche tifo per l'Ucraina. Invece Pescara, vissuto qui da quando avevo un anno e mezzo, ho fatto l'acqua. Siamo in mezzo, siamo, siamo, eh vabbè, l'acqua, Luca, può capitare, lei con le scarpe e con le chabatte. No, Pescara è ora la mia patria, appunto, ho sposato un pescarese e sono contenta di vivere qui. Ci dicevano che tu avevi giocato, prima hai parlato di Simon Alep, a Pescara in un torneo internazionale di tantissimi anni fa hai giocato contro Simon Alep? Sì, ho giocato contro di lei, non mi ricordo se è under 14 o under 16, era una competizione a squadre, penso i campionati europei. Mi ricordo che avevo lottato il primo set, ho perso, però poi lei ha fatto tanta carriera, quindi è stata comunque un'emozione. Luca, quanti minuti? Uno, ok. Chiamatemi Stefano Frattarelli, subito. Quanti anni vedremo ancora giocare Anastasia Grimalska? È una bella domanda, ora sto facendo la programmazione per quest'anno e poi vedremo. Stefano, vieni, vieni veloce qui, in una battuta, come definiresti Anastasia? Anastasia tennista e Anastasia moglie soprattutto? Unica, l'ho sposata, quindi di meglio non potevo scegliere. Grande dichiarazione di amore, però adesso la chiedo anche a te, non la dichiarazione di amore, la definizione di Stefano come marito, ma anche come chi ti sta vicino quando può, anche nei lunghi tour tennistici. Mi supporta e sopporta, però è un uomo fortunato. Hai capito la Grimalska? Grazie Stefano, grazie Fernando anche per il supporto, grazie Anastasia, in bocca al lupo. E noi non ci lasciate adesso perché proseguiamo con la seconda parte di Acapulco on the beach col treno dei servizi. No, no, prima stiamo. No, no, prima stiamo. Direi un po' di quasi alle sole. Grazie a tutti.